Beh, intanto come ho detto poco anzi da parte della provincia che rappresenta un po' la Casa dei Comuni grande, massima e seria e onesta solidarietà a questi 45 dipendenti che certamente meritano ascolto, meritano confronto ma meritano anche supporto a quelle che sono le attività nel rispetto della legge di trovare una soluzione al ricollocamento degli stessi quindi da parte nostra ho ascoltato un po' anche i sindacati, è emersa non solo la richiesta di avere la possibilità di trascorrere anche loro il Natale su cui ci impegneremo nelle prossime ore ma soprattutto è stato chiesto cosa che rientra in quello che è il ruolo della provincia qual è come dicevo poco anzi Casa dei Comuni, un ruolo importante di accompagnamento ai processi dei comuni e nello specifico al Consorzio Bacino Salerno 2 convocheremo nelle prossime ore i 40 sindaci di questo consorzio affinché insieme si possa trovare e condividere un percorso di ricollocamento degli stessi no